Credo che il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, però la nostra squadra non ha rubato nulla. Ci prendiamo bene questi tre punti, abbiamo fatto delle cose buone, altre meno buone, però sono tre punti importantissimi per noi, per continuare quello che abbiamo intrapreso. C'è tanto lavoro da fare, sappiamo dove intervenire e pian pianino cercheremo di aumentare il livello delle nostre prestazioni. Sicuramente la gestione della palla va molto migliorata, abbiamo le qualità per fare cose migliori, logicamente mi è piaciuta la gestione della partita alla fine, però dobbiamo migliorare. Abbiamo pagato il caldo, un po' il campo mi dicevano i ragazzi che era un po' molle, però al di là di queste cose qua, quello che interessa a noi è continuare a lavorare sulla strada che abbiamo intrapreso, perché io non voglio nessun alibi, perché la squadra che vorrò dovrà essere brava a gestire il caldo, la condizione fisica precaria di qualcuno, il terreno di gioco. C'è tanto da lavorare, da crescere, però sono ottimista e quello che mi è piaciuto è l'atteggiamento dei ragazzi che per noi è fondamentale.